Ora che ha messo un po' di ordine nella sua vita e ha iniziato anche una nuova storia d'amore con il produttore Gianluca Tocce, Raffaella Fico è pronta a decollare per una carriera veramente scitillante, tappa obbligata un po' come negli anni 90 è il calendario Ose a cui l'ex Naufraga ha sempre detto no, ma soltanto gli stolti non cambiano idea e così o forse è il caso di dire che è arrivata un'offerta a cui Raffaella non ha saputo rinunciare quindi la sexy napoletana si scoglierà, viste le sue generose forme ovviamente siamo certi anche che il risultato sia veramente molto bello, il settimanale di più anticipa la notizia e anche alcune foto super hot, fa vedere quindi che la Fico è stata scelta come testimonio del calendario per 4man magazine, quindi in edicola da dicembre tutti i maschietti poi potranno acquistare il calendario e godersi la Fico per ben 12 mesi, felici e contenti con quel gran fisico che si ritrova soprattutto un fisico stupendo ritrovato dopo la gravidanza beh, forse il figlio di Umberto Tozzi dovrà essere un tantinello geloso per questi scatti decisamente hot, voi che dite?